La Fondazione Spaventa e l'Università d'Annunzio vogliono onorare la figura di Silvio Spaventa, abruzzese, patriota risorgimentale e ministro dell'Italia Unita, che si adoperò per migliorare la rete delle infrastrutture in Italia. Nel bicentenario della nascita, Spaventa sarà ricordato con celebrazioni e una serie di manifestazioni che faranno tappa a Bergamo, dove fu eletto deputato, a Roma, dove fu presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, e a Napoli, oltre che in Abruzzo. Un politico attuale, patriota e statista, esemplare per la storia d'Italia. Seppe interpretare il suo ruolo politico, anzitutto con quel senso dello Stato, che oggi è così latitante nella nostra politica nazionale. È difficile trovare un politico che credette veramente nel ruolo che gli era stato affidato dalla sorte e dalla storia. originario di bomba fu colui che distrusse la destra storica e che costruì le ferrovie statali attuali, che ancora oggi conservano i limiti di allora. Vole assolutamente sopprimere la compagnia allora privata, che si preoccupava solo di collegare le città e non le campagne e non le montagne. E su questo, a costo anche di far cadere il proprio governo, lui volle assolutamente, cadde a favore di De Pretis, e a quel punto costruì le ferrovie attuali statali, che paradossalmente oggi hanno di nuovo lo stesso problema. Sì, si collegano in alta facilità le grandi città, ma ci sono anche le realtà di provincia, le realtà di montagna e di campagna. Quindi il suo pensiero davvero attuale, di una persona molto originale, che ha avuto un valore molto più alto di quello che gli viene riconosciuto per la sua amicizia, molto stretta con Kavur, che era un genio sì, ma come tutti i geni non è sempre amato. Se ci fosse oggi lui, proprio nello scenario internazionale geopolitico, cosa consiglierebbe in questa situazione attuale? Certamente il senso dello Stato gli avrebbe sconsigliato di tenere un linguaggio dai toni troppo elevati, che esasperano le tensioni e rischiano di provocare conflitti. Non era un uomo debole, era un uomo forte, perfino ai limiti in qualche modo della reazione durante il brigantaggio, però lo seppe interpretare con questo rispetto dell'altro, altra qualità che manca oggi, dove basta strillare di più per avere ragione. Silvio Spaventa non era questo.